Lavoratori senza green pass per l'avvocato Giampaoli devono essere stipendiati, pronti a dare battaglia. Prosegue giorno e notte la protesta pacifica dei no green pass ad Ancona, manifestanti da tutte le marche. Venerdì si protesta in cerchio, fermi ma cantando per portare solidarietà ai lavoratori del porto. Addio a Piada Marina, il chiosco è stato rimosso con una gru dal molo di Levanti a Pesaro, lo staff assicura ripartiremo altrove. Più sicurezza al porto di Fano con 5 varchi accessi limitati, il vice sindaco Fanesi annuncia anche l'illuminazione del molo di Levanti fino al faro e alla statua della tempesta. Il CT della Nazionale torna in campo per le marche, al via le riprese per gli spot promozionali 2022. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia, apriamo il nostro telegiornale con l'intervista che abbiamo realizzato all'avvocato Isabella Giampaoli che difende decine di lavoratori sprovvisti di Green Pass. Per l'avvocato le nuove norme sono illegali e discriminatorie, per questo i dipendenti dovrebbero essere comunque stipendiati. Angelica Panzieri. Diciamo no a questa discriminazione illegale in contrasto con norme di rango superiore. Il problema è sempre lui il tanto discusso Green Pass. E a parlare di fronte alle telecamere di Fano TV è l'avvocatessa Isabella Giampaoli, la quale ha iniziato a seguire da quando la certificazione verde è diventata obbligatoria per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, decine e decine di lavoratori che ne sono sprovvisti. Giampaoli, assieme a loro, si dice pronta ad andare a fondo e a dare battaglia, perché un decreto legge non può superare un contratto nazionale di lavoro, spiega ai nostri microfoni, quindi gli stipendi che ora vengono sospesi dovranno essere pagati in seguito. Sono in prima linea, insieme a moltissimi altri colleghi in tutta Italia, per combattere questa normativa illegale, illegittima e ignobile che discrimina le persone. Quindi qui non si tratta più di salute pubblica, ma si tratta di discriminazione. Il Green Pass è in contrasto con la normativa europea, con il regolamento europeo 953, è in contrasto con la Carta dei diritti europea e con la Costituzione italiana. Quindi è una norma inapplicabile e che va estirpata. Che cosa significa andare fino in fondo? Lo stato di emergenza durerà fino al 31 dicembre, così è anche l'obbligo di Green Pass, a quanto pare. Ci auguriamo che finisca prima. Stiamo lavorando alacremente. A fronte della sospensione dal lavoro, abbiamo inviato una lettera per avvisare che è una normativa illegittima e per recuperare gli eventuali stipendi che sono stati decurtati, in quanto esiste un contratto di lavoro che non può essere cancellato. Continuerà giorno e notte, almeno fino al 23 ottobre, il presidio contro il Green Pass al porto di Ancona. In particolare, venerdì dalle 9.30 per tutto il pomeriggio, i partecipanti rimarranno fermi, in cerchio, con in mano alcuni strumenti musicali. Manifestare, si legge in un gruppo Telegram, ci porta molto spesso in uno stato di rabbia, angoscia e violenza. Questo tipo di emozioni nutrono il sistema coercitivo davanti al quale ci stiamo fermando. C'è bisogno di creare unione e amore, uniamoci e cantiamo, rimanendo fermi e incorruttibili. E adesso vi facciamo vedere una parte della protesta pacifica che continua in Via Mattea ad Ancona, con dei video girati ieri e oggi e arrivati alla nostra redazione. Allora, questa è la protesta non violenta di Ancona. La gente passeggia sulle strisce pedonali, blocca il traffico e i poliziotti non possono fare nulla perché appunto le persone stanno passeggiando. Per cui è una forma di protesta, come dire, non violenta ma allo stesso tempo efficace. Come vedete ci sono donne che solidarizzano anche con autisti e privati. stanno offrendo caffè, panini, dolci e quant'altro, proprio per solidarizzare con i camionisti e con i privati cittadini. C'è apposta sul gazebo una bellissima bandiera greca, dono di un autista greco che solidarizza con noi. Giusta informazione è venuta ad aiutare il presidio del porto di Ancona. Il presidio è pacifico, si cerca di stare insieme, il traffico è rallentato, ma il tutto è fatto con grande umanità e soprattutto si cerca di esaltare la pacificità e in qualche modo portare la voce di tanta gente che è contraria a ciò che lo Stato sta facendo. In fondo ci sono dei banchetti con i viveri per aiutare il presidio e il tutto sta andando avanti senza sosta. Covid-19! E passiamo all'aggiornamento sul Covid-19. Nelle Marche nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al virus. Si tratta di una 91enne residente a Iesi. Tra le nuove diagnosi, invece, positive riscontrati sono 63, di cui 17 in provincia di Pesero-Urbino. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 54 in totale, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Scende di 2 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale leggermente quello dei degenti in semi-intensiva. Prosegue il tour vaccinale nella provincia di Pesero-Urbino. Il camper farà sossa da domani a venerdì nell'area Tamoile, nella zona artigianale di Montecchio di Vallefoglia, con orario continuato dalle 10 alle 17. Potranno essere somministrate prime e seconde dosi ai cittadini che si presenteranno anche senza prenotazione. Basterà essere muniti di tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento. Intanto l'osservatorio epidemiologico delle Marche e l'Istat fanno sapere che oltre il 66% degli studenti tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino e 75,5% soltanto la prima dose. Ed ora cambiamo argomento. Al porto di Fano verranno istituiti 5 varchi d'ingresso per impedire l'accesso a tutti i veicoli che non hanno nulla a che fare con l'attività lavorativa, previste anche nuove luci sul molo di Levante. Filippo Pucci. Accesso limitato e nuova illuminazione. La Giunta Comunale di Fano ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria per aumentare la sicurezza del porto di Fano. Ad annunciarlo è il Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica Cristian Fanesi che ha illustrato i quattro interventi. La sistemazione dell'impianto idrico, l'installazione dei varchi per l'accesso carrabile nelle zone di lavoro del porto di Fano, la sostituzione e l'acquisto di parapetti, parabordi, anzi per quanto riguarda il moletto dove scaricano le nostre barche e il pescato e quindi lavori tanto attesi che riguardano l'attività lavorativa del porto Peschereccio e delle darsene che si sviluppano intorno anche all'area della canteristica. I varchi all'ingresso alle aree portuali saranno cinque, tutti muniti di sbarra alzabile soltanto da chi sarà in possesso di un badge rilasciato dalla Capitaneria. L'obiettivo è quello di evitare l'accesso ai veicoli non autorizzati. Oltre alla sicurezza del porto, delle aree di lavoro, abbiamo pensato anche di rendere più bello, più vivibile, più usato il molo di Ponente che è il molo che collega il faro e anche la statua della tempesta con il lido di Fano e lungo questa passeggiata nella quale siamo ora tantissime persone già vengono anche la sera quindi abbiamo pensato di dotarla di una trentina di lampioni nuovi a led ovviamente che aumenteranno la sicurezza ma certamente renderanno più godibile questa zona della città davvero eccezionale che sicuramente abbiamo solo noi. Per cui l'intervento complessivamente è di circa 330 mila euro con soldi che sono stati destinati al porto di Fano dalla regione Marche l'intervento andrà presto in gara e i lavori inizieranno subito dopo. Ancora cronaca, un incidente autonomo si è verificato oggi alle 14.30 in via Flaminia a Fano all'altezza della BCC di Cucurano. Una diciassettenne alla guida di uno scarabeo mentre percorreva la strada in direzione monte per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dello scooter e ha urtato lo specchietto retrovisore sinistro di una vettura in sosta. Il giovane è caduto a terra ed è stato trasportato al pronto soccorso di Fano. Sul posto anche la polizia locale. I vigili urbani sono intervenuti pure nella rotatoria di via Fanella via Aldomoro dove nel pomeriggio c'è stato un incidente che ha coinvolto un'auto condotta da un 64enne residente nell'Anconitano e una bici guidata da una 51enne. La donna è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso di Fano. E torniamo a parlare della minorenne soccorsa ieri nel centro storico di Fano perché dobbiamo precisare che la ragazza stava viaggiando in sella alla bicicletta a bassa velocità. L'amica, anche lei in bici, perdendo l'equilibrio, era finita sopra la giovane che a sua volta era caduta a terra battendo la testa al suolo. Soccorsa prima dal farmacista che ha l'attività di fronte a dove è successo il fatto e poi dai sanitari del 118 era stata trasportata al Santa Croce dove era stato riscontrato un trauma cranico e dopo sette ore circa di ospedale è stata dimessa con una prognosi di due giorni durante i quali dovrà rimanere sotto osservazione. Il messaggio di un nostro telespettatore che a sua volta segnalava le lamentele dei passanti per l'elevata velocità con la quale gli studenti si recano a scuola e in bici passando lungo corso Matteotti è scollegata con quanto accaduto alla ragazza rimasta ferita. Dopo 16 anni a Pesaro è stato rimosso dal molo di Levante il chiosco Piada Marina lo sfratto deciso dall'autorità portuale del medio adriatico di Ancona con il parere favorevole del comune e della capitaneria di Porto è avvenuto a causa della mancanza di una concessione edilizia richiesta per quel tipo di attività che dopo tre mesi per legge da struttura mobile diventa fissa è arrivato il giorno per noi più triste si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Piada Marina la fine di una storia fatta di sacrifici, passione e condivisione ma anche di grandi soddisfazioni che saranno una solida base per ripartire altrove. In 750 domenica scorsa hanno partecipato alla prima camminata in Rosa un percorso di 5 chilometri lungo le vie del centro e del lungomare di Fano per sostenere la prevenzione e la cura del tumore al seno. Una grande partecipazione per lanciare un unico messaggio quello di promuovere e diffondere un'attenzione verso la prevenzione e la cura del carcinoma mammario si sono incontrati in piazza 20 settembre gli oltre 700 partecipanti alla camminata in Rosa un percorso di 5 chilometri non competitivo aperto a tutti organizzato dall'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano. Una partecipazione incredibile quella di oggi alla camminata in Rosa la prima camminata in Rosa per il comune di Fano e non potevamo mai pensare che la risposta sarebbe stata questa e per noi è un grande onore voglio ringraziare le tante persone, uomini e donne, anche bambini che sono qui con noi oggi perché camminare per la motivazione per la quale camminiamo oggi è importante, fondamentale e prezioso la cultura della prevenzione deve passare perché essere ammalati o rischiare di esserlo non deve essere uno stigma il tumore si può curare e la prevenzione è fondamentale per la vita i partecipanti, i giovani, adulti e le tante associazioni che hanno sposato alla finalità di questo evento si sono diretti verso il corso passando per l'arco d'Augusto fino a via Nazario Sauro vicino alla darsena borghese poi è stata la volta del lungomare di Sassonia verso viale Cesare Battisti e via Garibaldi per tornare infine nella piazza centrale attraversando Borgo Cavour deve passare questo messaggio dove comunque deve diventare un'abitudine controllarsi il seno deve diventare un'abitudine costante quello di controllarsi ogni anno anche a più giovane età un pensiero alla persona che oggi è un po' protagonista assente Alida Battistelli la presidente dell'associazione Fior di Loto che non può camminare oggi con noi ma che noi camminiamo per lei e con lei e con tutte le donne che comunque stanno combattendo una battaglia importante per la loro vita Appuntamenti pomeridiani nei quartieri nel municipio di Monte Ciccardo per assicuri di essere assicuro la campagna promossa dal comune di Pesero per contrastare e prevenire le truffe agli anziani il progetto che lo scorso luglio ha previsto la realizzazione di un cortometraggio dei plan e manifesti che raccontano il fenomeno arriva oggi nei quartieri con una serie di incontri ai quali parteciperanno le forze dell'ordine la prima tappa è in programma per giovedì 21 ottobre alle 17 nella Casa del Popolo in via della Concordia a Villa Fassigi durante l'appuntamento verranno raccontate situazioni di rischio e suggerite modalità di tutela dalle truffe Torna in campo il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini come testimonial della Regione Marche per il 2022 sono iniziate oggi le riprese della nuova campagna promozionale con gli spot che andranno in onda il prossimo anno le riprese proseguiranno nei luoghi più suggestivi della Regione dal mare alla montagna con l'introterra scrigno di sapori e paesaggi gli ottimi risultati conseguiti nel corso della stagione turistica sottolineato il Presidente Francesco Acquaroli sono anche frutto della bella immagine della Regione che grazie al nostro testimonial abbiamo mostrato all'Italia e all'Europa la grande sfida che abbiamo davanti a concluso Acquaroli è quella di destagionalizzare l'offerta turistica per valorizzare tutto l'anno le enormi potenzialità delle Marche Walter Scavolini è stato insegnito cittadino onorario della Comune di Montelabate un riconoscimento per l'imprenditore che con la sua azienda ha dato un importante contributo per lo sviluppo dell'intero territorio Letizia Marchionni più che la cittadinanza delle Marche adesso da oggi io mi sento adottato al Comune di Montelabate perciò è un bel impegno che per voi non mi aspettavo un riconoscimento del genere per me è come essere stato adottato dal Comune di Montelabate sono le parole di un emozionato Walter Scavolini che lo scorso 14 ottobre durante un vero e proprio consiglio comunale allargato ha ricevuto dal sindaco di Montelabate Cinzia Ferri la cittadinanza onoraria un riconoscimento che simboleggia grande stima per i valori profondi e genuini dell'imprenditore immobiliere e gratitudine per aver dato lavoro a tanti cittadini grazie all'azienda Scavolini che quest'anno soffia su 60 candeline i segreti per un'attività così longeva ha rivelato Walter sono un prodotto di qualità ed un buon servizio restando sempre al passo coi tempi ricordo che eravamo due aziende i primi che siamo venuti qua su Montelabate francamente allora sembrava di essere fuori dal mondo sembrava perché si erano abituati tutti a stare in città a peso o proprio attorno mentre invece pensiamo di aver fatto una cosa giusta perché poi penso che qui Montelabate è diventata una zona industriale molto importante io ho quello che mi auguro anzi lo dirò che questa cittadinanza venga magari tramandata in futuro di generazioni che oggi diciamo è la prima generazione poi spero che in futuro anche per quanto riguarda i figli, i nipoti magari ancora i pronipoti perché francamente è importante se c'è questo riconoscimento vuol dire che l'azienda va bene ed è importante per tutto perché ormai l'azienda è un patrimonio nostro certamente ma è anche un patrimonio di tutti allo straordinario consiglio comunale assieme al sindaco vi erano tutti i consiglieri comunali di Montelabate presenti anche i consiglieri regionali Marta Ruggeri, Nicola Baiocchi, Giorgio Cancellieri e Andrea Biancani assieme al presidente della provincia Giuseppe Paolini a rappresentare i comuni di Pesaro e Vallefoglia c'erano Marco Perugini e Palmiro Ucchielli l'azienda Scavolini ha affermato Cinzia Ferri non solo ha contribuito in maniera importante allo sviluppo del territorio ma ha anche portato il nome del nostro comune in giro nel mondo mi è venuta quest'idea perché sono convinta che Walter Scavolini con il suo intuito quando era molto giovane non era neanche maggiorenne ha creato questa azienda e negli anni è riuscito a dare lavoro a tante famiglie di Montelabate e anche dei comuni limitrofi e questo che cosa ha comportato per il comune? ha comportato un benessere uno sviluppo industriale e anche uno sviluppo edilizio perché chiaramente uno cerca di abitare vicino a dove lavora e quindi per il nostro territorio è stata una cosa molto importante è vero che poi negli anni ci sono stati periodi di crisi però lui è l'unico industriale che è riuscito sempre a superare le crisi perché ha creduto nella sua azienda reinvestendo nella sua azienda e convinto che avesse delle potenzialità un grande intuito chiaramente imprenditoriale uno sviluppo del territorio molto importante e al quale non potevamo non dare un riconoscimento altrettanto importante come una cittadinanza onoraria ha preso il via il progetto Carnevale Globale nato da un'idea di Roberto Dagnese si tratta della prima mappatura aperta a tutti i carnevali nazionali e internazionali la presentazione si è tenuta sabato scorso al Museo Campano di Capua sono davvero orgogliosa ha affermato la presidente dell'ente carnevalesca di Fano Maria Flora Gianmarioli di essere stata il ponte tra gli organizzatori del progetto e i tanti carnevali facenti parte del gruppo di lavoro l'iniziativa è ambiziosa ma già al primo incontro ne siamo usciti tutti arricchiti e consapevoli che nessuno è meglio di un altro ma ognuno ha la sua prerogativa che lo rende unico a Fano le celebrazioni dantesche hanno coinvolto anche i giovani in quest'ultimo fine settimana alla Pinacoteca San Domenico alcune classi del liceo Nolfi a Polloni si sono impegnate in esibizioni e letture del sumo poeta nell'ambito di Fano per Dante un progetto fortemente voluto dalla Fondazione Carifano insieme al Comune alla BCC Fondazione Teatro della Fortuna Fanno Rocca Malatestiana e Aset gli alunni guidati dai loro insegnanti si sono esibiti in letture dantesche hanno presentato i pupi del carro allegorico intitolato Fanno la Divina che sfilerà nella prossima edizione del Carnevale e hanno illustrato il reportaggio fotografico del laboratorio che si è svolto nei capannoni dell'ente carnivalesca sotto la guida del maestro carrista Ruben Mariotti e dell'associazione Carnival Factory ed ora facciamo gli auguri a Lidia Ugolini li vedete alle mie spalle di Emilio Rocca da Adria che oggi festeggiano 63 anni di matrimonio nozze di Giglio per questa coppia di Pesaro e auguri da tutti i figli i familiari e dallo staff di Fanu TV Tra poco le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato all'incontro sul PSR Marche piano strategico rurale condotto da Maria Elena del Bianco l'informazione invece torna domani buona serata a tutti voi arrivederci grazie a tutti